Quando non puoi più controllare, imporre, devi cambiare strategia, devi governare, essere consapevole, rendere consapevole, si presenza, regole, esempio, educa anche nell'online, educa non solo virtualmente. Quella foto la metteresti nella bacheca della scuola? Lo faresti davanti a tutti? Ammirazione o invidia? Proteggi te stesso, sei furbo e non fesso. Usa la rete, non farti usare. Figurati se non lo so, aspetta un attimo, non ho tempo, sono online. Voglio la tua password. Mio figlio non usa Facebook, queste cose non mi riguardano. Instagram ce l'hanno tutti, e io? Tuo figlio si droga? Sì, usa Facebook. Hai letto le impostazioni della privacy? Sì, sono giurassico. Più vita reale che irreale. Bisogna lavorare con i figli prima, quando chiedono Facebook è tardi.